Teredurruti, una televisione monolocale, mancano ancora un'ora e mezza all'esibizione di Claudio Lolli e dei suoi prestigiosi maestri, Paolo Capodacqua, le chitarre. Buonasera, salutiamo Teredurruti. Nicola Lesini al sax soprano. Soprano Rigurbo, ciao. Soprano Rigurbo. E' scambiato per un sopranino molto grave da parte tua. E' vero, che indossa la spilla di Teredurruti. Eric Toccaceli, il loro manager. Il manager. Il Brian Epstein della situazione. E Claudio Lolli, anche lui con la spilla di Teredurruti. Una cosa che mi commuove, commuoverà tutti gli amici di Teredurruti, vedere la spilla con l'omino sul palco del primo maggio. Buona fortuna. Ne abbiamo bisogno. Iscriviti al canale. Chiange Om. Ok. Ha, ha, ha. Ho. Mi? Li. Li. Li.